Sono Domenico Acerenza, nuotatore olimpico e campione del mondo di nuoto in acqua e libera. Le gare in acqua e libera sono un po' una battaglia e io quando tocco l'acqua entro proprio nei panni di un guerriero. Per me l'orgoglio è emergere da questa terra e portare in alto il nome della Basilicata e del mio paese. Crescere in Basilicata mi ha dato quella spinta e quella forza di volere emergere a tutti i costi. Secondo me è un po' quella spinta che riesce a darti solo questa regione. Torno sempre a casa dopo le competizioni importanti perché ho bisogno proprio di rigenerarmi e ritrovare le nuove energie per le prossime sfide. Torno sempre a casa dopo le competizioni importanti. Torno sempre a casa dopo le competizioni importanti. Grazie.